Dopo il Mondiale in Italia vinto dalla Germania per 1-0 con gol di Bremen contro l'Argentina, questa nazionale che si è piazzata al terzo posto, il popolo italiano si rituffa nel campionato italiano, dove la Juve piazza il colpo del mercato, ovvero comprando Baggio dalla Fiorentina per 25 miliardi di lire. Il popolo viola è rivolta, ma alla fine parte comunque il divincodino, mentre in panchina i bianconeri si siede mai freddi, dopo la buona esperienza al Bologna dell'anno prima. La Sampa intanto compra a Blanca e in Mikhailichenko. Novitato a questo campionato, ovvero il fallo d'ultimo uomo verrà sanzionato con un rosso di rete. Partono bene quasi tutte le big, a parte il Napoli, è la prima giornata, dove i campioni d'Italia pareggiano 0-0 col neopromosso Lecce, mentre il Milan vince 1-0 col Geno, l'Inter vince 3-0 col Cagliari e la Juve vince 1-2 col neopromosso Parma. Però la seconda giornata la Juve perde con l'Atalanta, come anche il Napoli che perde a Parma, perciò invece dopo due giornate ci sono le due milanesi e il sorprendente Pisa con Bomber Piovanelli, a centrocampo un giovane ciolo Simeone allenato da Mirce Lucescu. Alla terza giornata il Milan va al capolizio solitare grazie al gol di Van Bast, perché l'Inter perde col Toro 2-0 col primo gol in granata di Lentini e anche il Pisa perde. Poi il Milan pareggia 1-1 col Napoli al San Paolo ed ha più 1 su Inter e Samp, dove i nerazzurri vincono 6-3 col Pisa, mentre la Samp dopo una partenza a rilento senza vialli preggia ancora la Juve col Parma, per poi tornare a vittoria con l'Atalanta per 4-1, con la doppietta di Marco Branca. La Roma perde positività al doping per Ruzzi Carnevale, scolificati per un anno, e già ora si sono relegate a metà classifica. Alla settima giornata la Samp vince col Milan al San Siro, grazie al gol di Tonino Serezo, diventa la prima in classifica, grazie alla contemporanea sconfitta dell'Inter 4-0 con la Juve. Il 15 novembre 1990 il calcio italiano e la TV piangono la scomparsa del conduttore, creatore di un novantesimo minuto, Polo Valenti, storico conduttore ed è diventato un programma cult dagli anni 70 in poi. Il Milan dopo la sconfitta con la Samp perde anche il derby d'andata per 1-0, con un gol decisivo di Berthi. Poi nerazzurri vincono con Napoli in crisi e vanno in testa al campionato, perché la Samp perde il derby d'arante. Alla quattordicesima giornata la Samp vince 2-1 contro l'Inter e raggiunge nerazzurri in testa al campionato. Il Milan invece si rilancia, vincendo con la Juve con un gol di Alcelotti. Dopo quattordici giornate, Samp e Inter 19, Milan e Juve 18, Parma 16. Alla quindicesima giornata il 2 di testa si separa, l'Inter vince 2-0 col Gena, mentre la Samp perde a Malassi 1-2 col 2. La Juve batte un Napoli allo sbando che si trova a metà classifica, mentre il Milan pareggia 1-1 col Bologna. Classifica dopo quindici giornate dice Inter 21, Juve 20, Samp e Milan 19. Il Milan, la sedicesima giornata, grazie a un gol di Gullit, balza in testa al campionato. Ma la dicesettesima perde contro il Parma, perciò l'Inter vincendo diventa campione di inverno. Alla diciottesima giornata la Samp vincendo con la Roma a guanti in vetta all'Inter. La Roma, che viaggia a metà classifica, intanto è in lutto perché muore il suo ex-presidente Dino Viola, che è stato in carica per undici anni alla presidenza dei Giori Rossi, portando con sé anche uno scudetto. I bruciarcati però dopo inallenano 5 vittorie consecutive contro Cesena, Fiorentina, Bologna, Juve e Parma. Ma anche l'Inter le vince tutte e cinque, sono a più uno sul Milan, che si riprende 3-1 con la Lazio, 4-1. Alla ventiquattesima giornata, doppio confronto, l'Inter vince con la Juve, dove la panchina di Mayfredi sta traballando, e la Samp vince col Milan, grazie al gol di Ipiele, ma in cinque. Perciò dopo 24 giornate, Inter e Samp 35, Milan 32, Juve Genoa e Parma 28. Il Milan perde con l'Atalanta, e si stacca quasi definitivamente dal due di testa. Che vede la venticinquesima giornata, la Samp da sola in vetta, perché vince col Pisa, mentre l'Inter pareggia. Perciò dopo 25 giornate, Samp 37, Inter 36, Milan 32, Genoa 30, Juve e Parma 29. Alla ventissima giornata, c'è il derby della Madonnina, vinto dal Milan per 1-0, con gol decisivo di Marco Mambassa, 75esimo minuto. La Samp vince col Napoli in crisi per 4-1, con un gol di Viale e Lombardo, inutile gol dal dischetto di Maradona. Dopo 26 giornate, Samp 39, Inter 36, Milan 34, Juve 31, ma quel gol di Maradona, nessuno lo sapeva, ma è stato l'ultimo gol in Serie A, perché proprio dopo questa partita, c'è referto anti-doping, fatto la settimana prima, nella partita tra Napoli e Bari, dove Maradona è esultato positivo alla cocaina, squalificato per 15 mesi dal campionato di Serie A. Durante una notte lascia l'Italia, ma soprattutto Napoli, senza spiegazioni, ma volando in Argentina. Ma ritornando al campionato, la Samp alla 26esima giornata pareggia 2-2 col Cagliari, l'Inter vincendo 5-1 col Bari, l'Inter va a meno 2 dalla capolista. La Juve invece in caduta libera, perde con la Fiorentina e il derby col Toa, rischia di star fuori addirittura dall'Europa. Alla 30esima giornata, la Samp vince 3-2 col Bari e va a più 3 sull'Inter, che pareggia 0-0 con la Fiorentina. Alla 31esima giornata, Big Match e San Siro tra Inter e Samp, dove i Brucerchietti vincono 0-2, grazie ai gol di Dossena e Viali nella ripresa, e vanno a più 4 sul Milan, che scavano anche i Cugini in classifica, dove vincono 0-3 con la Juve. Alla 33esima giornata, la Samp gioca con Lecce, e vince 3-0, grazie ai gol di Serezo Manini-Viali, e c'è la festa per il suo primo storico scudetto, portati in trionfo, il bomber Viali e Mancini, il natore Buged in Bosco, e il presidente Polo Mantovano. Anche l'altra metà di Genova festeggia, perché per la prima volta nella loro storia, vanno in Europa, estromettendo la Juve nel match dell'ultima giornata, ovvero tra Juve e Genova, vinto dai Grifoni. In Serie B vanno Bologna, Cesena, Pisa e Lecce, capocanoniere Viali, della Samp con 19 reti. La classifica finale recita. Samp 31, Milan-Inter 46, Genova-Toro e Parma 38, Juve-Napoli 36.